Quattro vite giovanissime sono state spezzate in un pomeriggio di inizio autunno, falciate da un'auto che ha finito la sua folle corsa contro i tavolini del bar New Club 2000 nella frazione di Silla di Sassano. A perdere la vita sono stati quattro ragazzi giovanissimi, Giovanni Femminella di 16 anni, suo fratello Nicola di 22 anni, entrambi figli dei proprietari del bar, Daniele Paciello di 19 anni e Luigi Paciello di 15 anni. Ad ucciderli è stato un loro coetaneo, Gianni Paciello di 22 anni, che dovrà portare sulla propria coscienza anche la morte di suo fratello Luigi. Gianni ha riportato delle ferite serie ma non è in pericolo di vita. Trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla è stato sottoposto all'alcol test che è risultato positivo. Per lui è scattato l'arresto ed ora si trova piantonato in ospedale. Erano le 16 e 40 quando la BMW è piombata come un missile contro i tavolini del bar. Chi ha assistito alla scena racconta di aver visto l'auto arrivare a folle velocità condotta dal giovane in preda ai fumi dell'alcol. Probabilmente i sensi annebbiati gli hanno impedito di rendersi conto che davanti a lui c'era la base di cemento di una rotatoria. L'auto è praticamente decollata per poi schiantarsi contro il bar. Un boato fortissimo. In pochi istanti decine di persone che vivono nella zona sono uscite in strada per vedere cosa fosse accaduto. Urla e sangue ovunque, i corpi esanimi dei quattro ragazzi a terra. Sono stati chiamati subito ai soccorsi. In una corsa folle contro il tempo sono arrivati in pochissimi minuti quattro ambulanze e due mezzi dei vigili del fuoco del distaccamento di sala Consilina con la speranza di riuscire a strappare alla morte i quattro giovani. I medici hanno tentato di tutto ma per tre di loro non c'è stato nulla da fare se non coprire i loro corpi con un lenzuolo bianco. Uno dei quattro giovani era ancora vivo quando sono arrivati i soccorsi ma purtroppo durante il trasporto in ospedale anche il suo cuore ha cessato di battere. Nella giornata di oggi il magistrato deciderà se sarà necessario o meno procedere all'esame autoptico. Il sindaco di Sassano, Tommaso Pellegrino, appena presa la notizia, ha fatto ritorno da Napoli e ha annunciato che per il giorno dei funerali sarà proclamato il lutto cittadino.